Canale YouTube di Luigi Gaglio L'amore coniugale Così abbiamo intitolato questa lezione utilizzando proprio questa illustrazione, questo dipinto di Sonia Rozek Ecco, vedete, qualcuno stava chiedendo ma chi sono quei due là? Sono Ulisse e Penelope, Odisseo e Penelope Parliamo di un argomento che, diciamo la verità, nella letteratura è sempre stato un argomento un pochettino ambiguo quello dell'amore fra marito e moglie Qualcuno, un certo critico che si chiama Denis de Rangement dice che praticamente la letteratura, la letteratura moderna soprattutto nasce quando l'amore viene, quando il matrimonio viene messo in discussione e l'amore di un marito o di una moglie viene tradito Ecco, pensate ad esempio a Lancillotto e Ginevra Ginevra che è moglie di Re Artù e invece si innamora anche lei di Lancillotto Pensate a Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, eccetera, eccetera L'anno prossimo leggeremo i Promessi Sposi che forse rappresentano già una specie di eccezione perché è un testo di letteratura che prende a tema l'amore coniugale è una cosa quasi originale, quasi strana e marginale, diciamo la verità, nella storia della letteratura Anche nei poemi omerici l'amore coniugale viene messo molto in discussione direi se pensate al fatto che tutta quanta la guerra di Troia nasce dal rapimento di Elena che è moglie di Menerao e viene rapita e presa da Paride Se pensate al fatto che Agamemnon è che il capo della spedizione greca quando torna a casa viene ucciso dall'amante della moglie, Egisto, eccetera, eccetera Se pensate che Diomede addirittura non arriva neanche nella sua città di Argo perché sa già che è stato tradito dalla moglie, eccetera, eccetera Anche lo stesso Ulisse, diciamo la verità Non ci pare proprio un marito così tanto irreprensibile e fedele Se pensate al fatto che rimane per un anno con Circe e rimane per quasi sette anni con Calipso e quindi diciamo sicuramente è un argomento abbastanza ambiguo nella letteratura Sta di fatto che comunque, alla fine anche la stessa Calipso dice Io comunque preferisco restare con mia moglie anche se mia moglie ormai, sono passati parecchi anni si intravedono le rughe piuttosto che rimanere con te a vivere anche per l'eternità ma questa perfezione che è un pochettino fredda perché prova ancora dei sentimenti prova ancora un certo sentimento nei confronti della moglie Allora, come abbiamo visto la volta scorsa si attua la strage dei pretendenti vengono uccisi tutti i proci anzi, abbiamo già detto la volta scorsa uno dei motivi per cui Ulisse è giusto che uccida i proci è proprio il fatto che i proci volevano sposare Penelope volevano sposare sua moglie capite? quindi c'entra comunque tutto questo e tutti, pensate che a questo punto tutti quanti nella reggia sanno che è tornato Ulisse e tutti quanti lo esaltano tutti quanti lo salutano eccetera solo lei, ecco perché vi dicevo l'ambiguità solo la moglie quella per la quale lui sarebbe ritornato a Itaca nonostante tutti gli indizi e le prove fornite nutre ancora dei dubbi sulla vera identità dell'eroe anche se l'affetto che sente di provare per quell'uomo la porterebbe a baciargli il capo e le mani ecco allora che la regina soffoca ogni sentimento e quando Odisseo le compare davanti dopo il bagno purificatore regale nella sua riacquistata dignità trasfigurato nella sua bellezza dell'opera di Atena lei comunque lo sottopone ad un'ultima prova prima di lasciarsi andare all'abbraccio dicevamo vuole sottoporlo all'ultima prova vuole fargli una domanda per verificare se si tratta realmente di lui oppure no egli uscì dalla vasca simile agli immortali nel corpo ecco l'abbiamo già detto era stata Atena a presentare Ulisse come se fosse un vecchio mendicante adesso dopo questo bagno purificatorio Ulisse compare in tutto lo splendore lavato da lancella eurinome ha indossato i panni regali è ritornato dicevamo in tutto lo splendore della sua regalità di nuovo sedette sul trono da cui si era alzato di fronte a sua moglie e le disse disgraziata a te fecero il cuore molto più duro che alle deboli donne quelli che hanno l'Olimpo dovete sapere una cosa infatti Ulisse è già informato del fatto che la moglie assolutamente non l'ha riconosciuto addirittura la moglie per esempio ad Euriclea che era arrivata per spiegarle che era tornato Ulisse dice magari i proci sono stati uccisi da qualcuno degli immortali arrabbiato per la loro dolorosa superbia anche persino quando Euriclea le dice ma no ma guarda che aveva la cicatrice anche in quel caso come dire Penelope non le crede allora scende nel Megaron si pone di fronte all'ospite sconosciuto avvolto negli stracci e sta lontana da lui adesso però Ulisse dopo questo bagno è ben diverso da come era prima ancora l'aveva visto ancora avvolto dagli stracci del mendicante tutto accalorato e ancora agitato per la strage appena terminata è probabilmente anche sporcato dal sangue dei proci che aveva che aveva ucciso adesso invece si presenta a lui in tutto lo splendore ma niente è inflessibile è dura e così si rivolge a lei Ulisse anche lui in modo molto duro dice davvero ti hanno creata gli dei molto ostinata Odisseo è perfino sconvolto dall'atteggiamento di lei Penelope non ha cambiato atteggiamento neppure vedendolo così in tutto lo splendore della sua regalità davvero quindi gli dei dice a te fecero il cuore molto più duro che alle deboli donne cioè sei la donna più ostinata che ci sia più testarda nessun'altra donna starebbe con cuore ostinato lontana così dal marito che avendo sofferto molte sventure tornasse a lei al ventesimo anno nella terra dei padri nessun'altra donna si comporterebbe come te e dopo avermi aspettato per vent'anni mi getteresti subito le braccia al collo dovresti gettarmi le braccia al collo su balia stendimi il letto perché anche solo mi corichi costaia nel petto un cuore di ferro allora si rivolge alla balia e quindi è sicuramente Euriclea e dice di preparargli il letto perché anche solo mi corichi ormai del tutto disilluso Ulisse dice beh a questo punto mi coricherò nel letto da solo visto che lei non mi vuole riconoscere non mi ama almeno potrò riposarmi da solo anche solo mi corichi costaia nel petto un cuore di un cuore di ferro gli disse allora la saggia Penelope sciagurato non sono altezzosa o sprezzante né sono attonita non sono così sbigottita o così superba so molto bene come eri salpando da Itaca sopra la nave dai lunghi remi ecco so come eri quando quando sei partito no? Orsu Euriclea stendi il letto solido fuori del talamo ben costruito che fece lui stesso ecco effettivamente l'aveva costruito Ulisse portate fuori il solido letto e gettatevi sopra il giaciglio pelli e coltre coperte lucenti ecco qui è il cuore tra virgolette della prova di Penelope cioè Penelope dice una cosa che funge da prova definitiva che dovrebbe fungere da prova definitiva infatti chiede ai servi di spostare il letto questa cosa dovrebbe generare effettivamente genererà una reazione da parte di Ulisse che sa benissimo che il letto non può essere spostato perché il letto è stato costruito intagliato nell'albero e quindi ancora legato all'albero non può essere spostato si tratta comunque di una prova che dimostra l'astuzia di Penelope paradossalmente quindi questa prova che la mostra ancora così dura e insensibile serve perché lei comunque è così è astuta è furba è sempre sospettosa e quindi deve verificare bene ad esempio se abbandonarsi all'amore all'abbraccio per Ulisse oppure no prima di farlo deve essere sicura al 100% e questo è il motivo di questa di questa prova la prova è strettamente legata alla sua vita coniugale solo chi ha vissuto con lei l'intimità dell'amore può essere a conoscenza di questo segreto e solo Ulisse può capire che è impossibile spostare il letto disse così per provare il marito infatti scrive Omero non è che disse così perché veramente si spostasse il letto ma solo per provare il marito e Odisseo sdegnato disse alla moglie Solerte a questo punto Odisseo reagisce in un modo adirato sdegnato all'ordine dato dalla regina alle ancelle di trasportare fuori dal talamo il letto perché l'ospite possa riposare donna è assai doloroso quello che hai detto cioè insomma mi amareggia un po' quello che tu stai dicendo chi misi altrove il mio letto c'è stato per caso qualcuno che ha spostato il mio letto sarebbe difficile anche a chi ha accorto se non viene e lo sposta volendolo un dio in un luogo diverso senza difficoltà solamente una divinità potrebbe spostare questo letto dal momento che è intagliato nella corteccia è intagliato in una pianta in un albero nessun uomo vivo mortale neppure giovane forte lo smuoverebbe con facilità perché aveva un grande segreto nel letto lavorato con arte lo costruì io stesso non altri quindi sarebbe difficile spostare il letto anche per chi fosse abile se non intervenisse volutamente un dio a collocarlo in un luogo diverso infatti c'è un grande segreto in questo letto lavorato ad arte io stesso in prima persona l'ho costruito ed è un segreto che egli condivide con Penelope solo un'altra fidatissima ancella sa questo segreto della costruzione del letto lo sfogo di Odisseo si esterna a questo punto in una lunga e dettagliata spiegazione delle modalità con cui aveva costruito la stanza e il letto nuziali spiegazione che svolge una funzione narrativa perché è il segno chiarissimo del riconoscimento ma assolve anche la funzione enciclopedica del poema in quanto trasmette una serie di informazioni sulle tecniche di lavorazione e sugli strumenti utilizzati dagli artigiani l'abbiamo già spiegato Ulisse è un eroe artigiano perché è capace di costruirsi la zattera l'imbarcazione insomma con la quale arriva dall'isola di Calipso fino alla terra dei Feaci ed è un eroe artigiano perché ha costruito lui da solo il letto è una specie di testo anche di enciclopedia antropologica l'Odissea e anche l'Iliade perché certe volte ci sono dei brani che servono anche per spiegare come si fanno determinate cose ad esempio come si costruisce un letto nel recinto cresceva un ulivo dalle foglie sottili rigoglioso fiorente come una colonna era grosso un ulivo grosso grossissimo enorme intorno ad esso intorno ad esso feci il mio talamo finché lo finì con pietre connesse e copri d'un buon tetto la stanza vi apposi una porta ben salda fittamente connessa una porta fatta di legni ben connessi tra di loro quindi solida ecco dicevamo proprio il dettaglio della costruzione del letto sull'ulivo e poi partendo dall'ulivo che è stata costruita poi la casa insomma copri d'un buon tetto la stanza da letto a questo punto vi misi una porta eccetera dopo recisi la chioma all'ulivo dalle foglie sottili ci tagliai le fronde dell'ulivo sgrossai dalla base il suo tronco lo piallai con il bronzo ecco qui abbiamo la metonimia si parla di metonimia quando viene indicato il materiale al posto dell'oggetto ad esempio qui lo piallai con il bronzo sta a indicare gli utensili la pialla metallica che lui ha utilizzato per piallare questo legno bene con arte e lo feci diritto col filo e ho tenuto un piede di letto traforai tutto col trapano ecco dicevamo il dettaglio del lavoro da artigiano no? per cui poi adesso risulta irriconoscibile quell'albero che era all'inizio un albero anzi continua a essere un albero senza fronde l'ulivo che poi diventa il letto e utilizza tutti gli utensili proprio del falegname quindi dell'artigiano del legno quindi la pialla il trapano eccetera iniziando da questo piallai la lettiera la lettiera e il cassone l'interlagliatura del letto sul quale in seguito aveva teso le cinghie di cuoio destinati a sorreggere appunto questo letto piallai la lettiera finché la finii rabescando la d'oro e d'argento e d'avorio all'interno tesi le cinghie di bue splendenti di porpora allora ha costruito la lettiera poi la rabescata la ornata questa volta utilizziamo non è un termine ovviamente è una traduzione questa no? a rabescare gli arabeschi rabeschi eccetera sono le decorazioni che si fanno e si usa questo termine noi usiamo questo termine per via dell'abilità degli artigiani arabi nel creare queste queste decorazioni in realtà qui il testo originale o greco sicuramente non poteva avere questa insomma queste connotazioni questa parola comunque dice decorai d'oro d'argento e d'avorio questa lettiera all'interno tesi le cinghie di bue splendenti di porpora ti rivelo così questo segno adesso quindi ti dico come stanno le cose insomma quindi ho praticamente ha superato la prova Ulisse supera la prova qui l'ha sottoposto Penelope Donna non so se il mio letto è fisso tuttora o se un uomo tagliato il tronco d'olivo alla base altrove lo mise potrebbe essere spostato solo ed esclusivamente se qualcuno ha tagliato il tronco alla base e l'ha messo da qualche altra parte e quindi questo non sarebbe il nostro letto coniugale perché il nostro letto matrimoniale l'ho costruito io come ti ho spiegato finora ed è parte di questo letto è proprio il tronco dell'olivo disse così e lì si sciolsero ginocchia e cuore abbiamo già visto questa espressione una specie di verso formulare che era stato utilizzato anche quando stava per morire insomma Eurimaco e gli era venuta tanta paura perché sapeva aveva capito che Ulisse non aveva nessuna intenzione di salvarlo è un'espressione formulare che in questo caso sottolinea l'intensa emozione provata da Penelope davanti al segno certo che le ha fornito Ulisse ecco adesso si muta l'atteggiamento di Penelope fino ad adesso è stata dura insensibile inflessibile da questo momento in poi le si sciolsero ginocchia e cuore si può lasciare si può abbandonare al sentimento ora che la ragione è soddisfatta cioè ora che ha verificato che effettivamente si tratta di suo marito disse così e lì le si sciolsero ginocchia e cuore nel riconoscere i segni che Odisseo le rivelò sicuri piangendo gli corse incontro gettò le braccia al collo di Odisseo gli baciò il capo e gli disse ecco finalmente il momento in cui i due si possono abbracciare si possono lasciare andare lei si lascia andare per la prima volta finalmente ha questo sentimento di amore Odisseo non essere irato con me dopo che anche in altro fosti assai saggio tra gli uomini cerca di dimostrarti insomma saggio così come sei stato erai dimostrato in tante occasioni ci diedero pene gli dei hanno assegnato a noi mortali tante sofferenze che a noi negarono di vivere insieme insieme goderci la giovinezza e toccare la soglia della vecchiaia siamo stati lontani per vent'anni non essere ora adirato non essere offeso se non ti ho detto appena ti vidi il mio affetto quindi cerca di capire per esempio tieni presente come io sia stata circondata in questi vent'anni da persone di cui non potevo fidarmi ho imparato quindi ad essere sospettosa era giusto che fosse così e per fortuna che è stato così altrimenti magari adesso sarei sposa di qualcun altro il mio animo aveva sempre timore nel petto che qualche mortale venisse a ingannarmi con chiacchiere molti tramano infatti astuzie malvagie e quindi è giusto che mi sia comportata così all'astuzia di Odisseo l'astuzia di Odisseo viene completata e vinta quasi qui dall'astuzia raffinata della regina Penelope ma ora che hai elencato i segni chiarissimi del nostro letto che non ha veduto alcun altro mortale ma soli tu e Dio ed un'altra ancella dicevamo solo un'ancella fedelissima sapeva questo segreto attoride che mio padre mi diede allorché venne qui colei che a noi custodiva le porte del solido talamo ora è convinto il mio animo benché tanto duro ecco quindi in realtà diciamo l'astuzia la metis è ciò che connota questi due personaggi che in realtà però sono legati anche da un profondo affetto quindi ci sono questi due elementi che sono un po' contrastanti fra di loro certe volte il profondo affetto il sentimento che li lega ma anche l'astuzia la regina è il vero alter ego del marito che attraverso questo episodio che stiamo leggendo ottiene la prova dell'identità dell'eroe e la dichiarazione che comunque lui ha la dimostrazione che comunque lui continua ad amarla altrimenti si sarebbe dimenticato tutto questo il tema della metis e degli affetti sono comunque due temi intrecciati in questa sequenza che si chiude come vedremo anche ancora una volta con l'intervento di Atena disse così e in lui suscitò ancora più la voglia di piangere ecco se fino adesso prevaleva la metis prevaleva l'astuzia prevaleva l'intelligenza la ragione adesso invece prevale il sentimento a lui viene voglia di piangere infatti piangeva stringendo la sposa di letta accorta riconosce che ha fatto bene a fare così a mettere alla prova anche lui perché così ha dimostrato di essere sapiente saggia come appare gradita la terra a coloro che nuotano e di cui Posidone spezzò la solida nave è il momento finalmente dopo tanti viaggi per mare così pericolosi in cui hanno perso la vita tutti quanti i suoi compagni finalmente di stare a terra e la terra appare gradita perché finalmente non c'è il pericolo del mare Posidone infatti ha spezzato la solida nave ha distrutto tutte quante le navi che avevano che aveva usato Ulisse per ritornare in patria sul mare stretta dal vento dal duro maloso infatti la nave sottoposta alla sospinta incalzata dal vento e dalle terribili onde era stata così distrutta e pochi sfuggirono all'acqua canuta all'acqua biancheggiante per la spuma la schiuma delle onde è un epiteto formulare questo dell'acqua canuta e pochi sfuggirono all'acqua canuta nuotando alla riva e la salsedine si è incrostata copiosa sul corpo e toccano terra con gioia scampate al pericolo è difficile che uno riesca a scampare ad un pericolo ad esempio a un naufragio solo pochi riescono a salvarsi nuotando disperatamente verso la riva la salsedine si incrosta abbondante sul loro corpo e toccano la terra scampati al pericolo non facilmente così le era caro lo sposo guardandolo ecco è una similitudine come appare gradita la terra a quelli che si salvano così le era caro lo sposo così come era cara la terra insomma a un naufrago che finalmente riesce a salvarsi toccando terra dopo un naufragio così le era caro lo sposo così era caro Ulisse a lei non gli staccava più le candide braccia dal collo il candore della pelle è un attributo della bellezza regale Penelope condivide questa caratteristica con Nausica e con Nera la moglie di Zeus la dea bianca bianchissima e solamente negli ultimi decenni del resto che nella cultura occidentale il biancore della pelle non è più un elemento distintivo dei nobili è di regale quasi come era nell'antichità Aurora dalle rose e dita sarebbe spuntata che ancora piangevano se la dea Glaucopide Atena non avesse pensato altre cose sarebbero rimasti lì a piangere insieme abbracciati commossi fino all'alba addirittura se non fosse arrivata Atena Atena è Glaucopide cioè agli occhi azzurri è un epiteto di Atena non avesse pensato altre cose fece lunga la fine la notte Atena dicevamo prolunga la notte ai due sposi finalmente ricongiunti ritardando il sorgere del carro dell'Aurora fece lunga la notte trattenne Aurora dall'Aureo Trono vicino all'Oceano ecco l'Aureo Trono è un'allusione ai colori del mattino e infatti prima che il sole sorga infatti si alternano nel cielo colori che vanno appunto dal rosa al giallo oro ecco dobbiamo anche dire che Aurora era una divinità che sorgeva emergendo delle acque dell'oceano sul suo carro trainato dai cavalli lampo e fetonte non le fece aggiogare i cavalli dai piedi veloci vuol dire quindi che Atena impedisce ad Aurora di uscire con il suo carro per un certo periodo di tempo che portano agli uomini il giorno lampo e fetonte i purvedi che portano Aurora cioè ritarda l'arrivo dell'alba dell'Aurora quindi dell'alba perché i due sposi possano finalmente godere dopo tanto tempo di questo abbraccio possano commossi abbracciarsi e così dimostrare il loro amore che è un amore a differenza di quanto abbiamo detto all'inizio si tratta di un amore coniugale perfetto almeno per l'orizzonte degli antichi questo è uno dei testi abbiamo detto che sono anche nella letteratura antica ahimè sono quasi un'eccezione uno dei pochi testi in cui il tema è l'amore profondo vero sincero e leale fra il marito e la moglie ecco perché abbiamo intitolato così questa lezione l'amore coniugale l'amore nel matrimonio altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it